Mi aveva colpito che nessuno mi avesse mai detto metti la schiena così o prendi la forbice così e quindi il mio cervellino pensava ma se io prendo la forbice male chi è che poi me lo spiega? Come devo prendermi la corretta? Ci devo arrivare da solo? E quindi già lì mi sono posto delle domande In più io ho sempre fatto sport quindi ho sempre fatto calcio, ho fatto il puggi da tanti anni quindi ho fatto degli sport dove la postura è importante e la curi per forza pure adesso mi alleno tanto con un'attrice che mi cura tanto la postura quindi ho detto perché non devo inserire la postura pure quando insegno il metodo di taglio quando invece il corpo è la cosa più importante allora a quel punto ho creato un mio metodo dove inserire la postura prima di tagliare i capelli in maniera tale che puoi so veramente gestire bene il corpo è un'attrice che mi cura di tagliare i capelli che mi cura di tagliare i capelli